Ciao a tutti ragazzi Benvenuti in questo nuovo video Sono Alessandro e oggi vi parlo di due prodotti veramente fantastici Sono della Ambitful con i quali ho una collaborazione che mi hanno inviato questo snoot ottico di cui vi parlerò a breve che si chiama Ambitful AL16 e questa fantastica luce da 200 watt che si chiama EF200 Allora inizio subito a parlarvi di questa luce è costruita abbastanza bene ci sono sì delle parti in plastica ma tutto il corpo è fatto in metallo nella parte posteriore chiaramente abbiamo tutte le regolazioni del caso per quanto riguarda appunto l'intensità di luce possiamo anche andare a togliere la ventola quindi non farla partire ma avremo solo il 20% di potenza di questa luce e poi possiamo andare ad utilizzare alcune scene l'ho utilizzata già in due set appositamente creati per Ambitful e per i video qui su YouTube in questo momento chiaramente sto utilizzando un'altra luce e quindi ve ne posso già parlare la figata di questa luce ve lo dico subito è che è veramente potentissima non sono tanto i 200 watt che dovete andare a vedere ma sono i 79.000 lux dichiarati a un metro il che vuol dire che è ok a 200 watt ma questa luce è veramente potentissima io ad esempio come luce continua professionale avevo soltanto l'ML60 bicolor che è quello che sto utilizzando in questo momento e la differenza tra questi due è veramente abissale calcolate che in questo momento alla medesima distanza l'ML60 è al 35% quando utilizzo questa è all'8% quindi capite quanto è potente ha una temperatura colore di 5600 gradi kelvin non modificabile ecco questa è l'unica cosa che mi fa un po' storcere il naso nel senso l'ML60 bicolor l'ho comprato appositamente per andare in bar e ristoranti tutti quei contesti che sono abbastanza bui e che hanno una temperatura colore ambientale molto bassa tipo 2700-3000 kelvin chiaramente avere una temperatura colore aggiustabile in quel caso lì è una figata assurda questo non ce l'ha ma questo non me lo porterei in un set di quel tipo lì perché come vedete ha delle dimensioni abbastanza grosse non pesa poi molto anche se è abbastanza grosso quello che pesa è il suo alimentatore quello pesa veramente tanto ed è anche molto ingombrante questa infatti secondo me è più una luce da studio vera e propria potete utilizzarla tranquillamente al posto del flash ad esempio nelle foto che state vedendo ho utilizzato questa luce più o meno a tutta potenza e avevo il diaframma anche abbastanza chiuso mi sembra un 2.8 o anche qualcosa in più chiaramente questa cosa con l'ML60 non era possibile anzi se andavo ad utilizzare dei softbox con doppia tendina e con griglia dovevo assolutamente andare ad alzare gli ISO e utilizzare come diaframma 1.4 o ancora meglio 1.2 quindi se volete fare delle foto in studio o comunque all'interno e non volete utilizzare dei flash questa è la luce che fa per voi chiaramente non potrete chiudere il diaframma a, dico una stupidaggine, F7E1 ma potrete portare a casa degli scatti con un diaframma sicuramente più chiuso rispetto a una luce da 60W come vedete nella parte frontale abbiamo un classico attacco Bowens il che vuol dire che ci possiamo attaccare sopra veramente di tutto l'unica cosa che non ha, un pochino mi dispiace è il buchino per l'ombrello quindi l'ombrello su questo faretto qui non ce lo possiamo mettere però avendo l'attacco Bowens possiamo attaccarci veramente di tutto abbiamo una comoda maniglia da questa parte e come vi dicevo qua dietro le varie regolazioni altra cosa fondamentale abbiamo l'applicazione dell'Ambitful che funziona veramente da Dio grazie alla quale possiamo tranquillamente comandare tramite bluetooth e dal nostro telefono questa luce, magari questa luce è un po' in alto non ci arriviamo, non vediamo apriamo il telefono e siamo a posto altro prodotto che mi è arrivato è questo che non è nient'altro che uno snoot ottico da mettere davanti a luci continue o a flash anche lui da questa parte ha l'attacco Bowens e grazie a delle forme come questa ci sono un sacco di forme in confezione le andremo poi a montare qui e chiaramente creerà un fascio di luce della forma desiderata nella parte anteriore abbiamo la vera e propria lente che girandola ci dà la possibilità di mettere a fuoco molto molto comodo per poter mettere a fuoco appunto queste forme di luce che andiamo a creare e poi abbiamo un anello che si apre e ci fa mettere questa specie di gelatina di plastica in modo tale da avere la luce colorata adesso non ve lo vado a chiudere però funziona alla perfezione cosa dirvi di questo oggetto ragazzi miei funziona alla grande non so se lo sapete se mi seguite su instagram vi lascio comunque qua sotto sempre il link in descrizione io ho già uno snoot ottico di questo tipo della Godox e ragazzi miei funziona più o meno lo stesso modo se volete un brevissimo confronto vi posso però dire una cosa qui dentro ovvero dentro l'attacco Bowens non c'è praticamente niente il che vuol dire che potrà essere utilizzato più o meno con qualsiasi flash o con qualsiasi luce continua cosa che non potete assolutamente fare con quello della Godox perché dentro l'attacco Bowens di quello della Godox c'è una fessura che fa sì che non tutte le luci possano essere montate ad esempio se prendiamo un flash di quelli da studio molto molto commerciali l'SK400 ha la luce continua molto lunga e dentro quello della Godox non entra non ho fatto la prova qui però qui c'è veramente molto molto spazio quindi immagino che possa funzionare alla perfezione con praticamente quasi tutte le luci vi ripeto con quello della Godox ad esempio con la D600 la lampadina della D600 non entrava detto questo la finitura è abbastanza buona è tutta in metallo mi raccomando ragazzi se la utilizzate con delle luci continue e abbastanza spinte chiaramente questo diventerà abbastanza incandescente come del resto anche quello della Godox quindi occhio che vi fate male specialmente quando andate a inserire queste cioè diventano quasi incandescenti quindi occhio però detto questo diciamo che fa assolutamente il suo lavoro vi lascio delle foto che ho fatto con questo snoot e non posso dirvi altro che funziona veramente alla grande nella confezione che mi ha inviato Unbitful che è chiaramente il kit completo ci sono una serie infinita di oggetti per andare a modificare la luce quello che mi è piaciuto più di tutti è questo come vedete ha delle lamelle che possiamo muovere e con le quali possiamo andare a creare tutto quello che vogliamo anche perché poi da questa parte possiamo andarci a mettere la forma desiderata quindi chiaramente se andiamo a utilizzare questo che crea una forma tonda possiamo poi andarla a modellare tramite questo nella Godox c'è una cosa simile ma sono soltanto due pezzetti di plastica molto difficili da utilizzare quindi super apprezzato questo oggetto della Unbitful tra l'altro abbiamo anche questo che possiamo chiamarlo diaframma non so come si chiama in realtà però insomma come vedete non fa altro che aprirsi e chiudere si mette sempre qui dentro e si può regolare la grandezza del fascio ecco questo è un oggetto per un uso creativo della luce creerà delle ombre e delle luci molto dure che ci potranno servire o per lo sfondo o per illuminare il nostro soggetto io da quando ho comprato quello dalla Godox un anno un anno e mezzo fa non è che l'ho utilizzato tantissimo perché poi in studio non vado tantissimo però ogni volta che l'ho utilizzato il risultato è sempre stato molto bello secondo me e comunque un risultato molto diverso dalla classica foto in studio la coppiata tra questi due oggetti è assolutamente vincente adesso vi spiego perché quando vuoi andare ad utilizzare un affare del genere davanti a una luce continua o davanti a un flash vi toglie tantissimi stop di luce non vi so quantificare quanto però vi posso dire che utilizzare una roba del genere vi ammazza veramente la potenza della luce tant'è che quando utilizzavo l'ML60 per fare la stessa cosa quindi avevo solo 60 watt dovevo assolutamente scattare a 1.4 o ancora meglio 1.2 e dovevo necessariamente alzare gli ISO non di molto con i diaframmi così aperti però dovevo scattare almeno tra i 200 e i 400 ISO almeno avendo tutta questa potenza invece a nostra disposizione chiaramente la cosa cambia possiamo scattare a diaframmi più chiusi e per più chiusi io ho scattato a F2.8 tutte le foto che avete visto fino adesso sono fatte a 2.8 non mi sono spinto un po' più in là probabilmente potevo farlo ma non ricordo adesso in questo momento i parametri di scatto comunque ho utilizzato questa luce a tutta potenza e mi sono trovato veramente bene non avevo nessun tipo di problema di potenza appunto perché questa luce è molto più potente di quella che avevo prima e questa accoppiata come vi dicevo è veramente vincente chiaramente per quanto riguarda lo snunt ottico lo potete utilizzare anche col flash il consiglio che vi do è se utilizzate una roba del genere col flash mi raccomando fate in modo tale che il flash abbia la luce pilota perché sennò diventa veramente un casino utilizzarlo e per luce pilota non intendo la luce pilota della D200 e neanche quella della D300 io intendo una luce pilota vera magari anche se non da 150 watt come quella della SL400 che sia una luce pilota abbastanza potente perché come vi dicevo questa vi ammazza la potenza della luce quindi mi raccomando se lo utilizzate in flash mi raccomando luce pilota se no non ne uscite vivi ci metterete tantissimo tempo anche solo per mettere a fuoco la forma di luce altra cosa fondamentale è l'applicazione di cui vi volevo parlare ambifull ha un'applicazione sul telefono che funziona veramente da dio e con la quale mi trovo veramente benissimo appena aprite l'applicazione con la luce accesa lei si connette e potete fare tutte le vostre regolazioni nel caso di questa luce ci sono delle scene preimpostate che sono andato ad utilizzare per esempio in alcuni video per dei brand e potete alzare ed abbassare intensità luminosa l'applicazione come vi dicevo funziona alla perfezione vi volevo parlare però di questa cosa non c'entra tanto con ambifull però ve la volevo dire allora io in questo momento ho otto luci continue diverse quindi due sono della rolli lumen cinque sono della ambifull e una è della gotox cosa succede adesso che se mi porto dietro tutta questa attrezzatura e monto un set con otto luci dovrò passare inevitabilmente per tre applicazioni e vi assicuro che vi fa perdere tantissimo tempo questo perché ve lo sto dicendo perché se scegliete un brand di luci come del resto anche di flash io vi consiglio di continuare a comprare poi i prodotti di quel brand almeno avrete un'applicazione e da quell'applicazione potrete poi andare o a creare dei gruppi di luci o modificarne magari il colore l'intensità e quant'altro singolarmente vi assicuro che passare per tre app invece diverse e distinte non è proprio il massimo perché magari devo regolare una luce da un'app a regolarne altre tre da un'altra app ancora eccetera eccetera quindi vi assicuro che diventa poi tutto molto molto macchinoso quindi il consiglio mio è scegliete un brand e poi comprate le luci di quel brand lì e questo perché ci sono passato proprio io le luci della Ambitful le prime due almeno le ho comprate io non era frutto di una collaborazione avevo già Godox avevo già Rolly Lumen e ho scelto quelle della Ambitful facendo così mi sono trovato a utilizzare tre app distinte e separate poi dopo ok è arrivata la collaborazione con loro quindi tutto quello che avete visto dopo è merito loro e ok però il consiglio io ve l'ho dato poi fate voi ok ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se avete qualcosa da chiedermi mi raccomando scrivete un commento qua sotto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao